Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio in Minecraft Allora signori, signori Come già detto è finisciuto il momento Come si chiama ragazzi Ho fatto il battesimo alla bambina Sono bello libero Ho una bella settimana di vacanza Per cui posso ricominciare a fare video In questa serie tutti mi hanno superato, strasuperato Sono avvantaggiati avanti Per cui ragazzi ora gli faremo il culetto Allora nel server com'è c'è Nuba, la finanziata di Marcus Krohn Infatti mi ha scritto qualche cosa Ah ok perché stiamo parlando dello scherzo fatto da Marcus a Nuba Allora dove eravamo rimasti ragazzi Eravamo rimasti che avevo messo a cuocere il ferro Dovamo fare se vi ricordate i geothermal e un po' di roba Allora prendiamo tutto questo roba chi Poi le canne e la zucca sono cresciute ma in mano le ho raccolte E che ci serve? Che ci serve? Che ci serve? Lattin E credo basta Vediamo un po' Andiamo qui e cominciamo a usare i nostri cosiki Allora mettiamo tutto qua Papampete Poi mi servirà Della pelle perché devo fare un libro No un libro già lo abbiamo però Ne facciamo un altro perché vorrei fare due Chunk loader Vediamo se riusciamo Allora il libro si fa in questo modo No dobbiamo fare prima la carta Ok Si facciamo così Voilà Cos'erano tre? O uno? O due? Due Tre Ok Allora Chunk loader Subt Subt Loader Ne vorrei fare? Ne vorrei fare alcuni piccoli E uno grande Però me ne servirebbero due grandi Iniziamo a farne uno che è meglio va Allora due diamanti Poi ossidiana E un libro E facciamo questo qua Vediamo un po' se riusciamo a farne due Mi servirebbero due diamanti Che noi abbiamo E cinque ossidiane Cinque ossidiane Cinque Ok Riusciamo a farne due Riusciamo a farne due Voilà E due di questi Pampete Poi 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 mi servono ori Ori Me ne servono altri tre Logicamente non abbiamo più oro Ma nessun problem Nessun problem Perché ne abbiamo due qua Li maceriamo Così si raddoppiano Voilà Abbiamo carbone Si abbiamo carbone Perfetto Ora nel mentre Attendiamo lì Possiamo fare un'altra cosa Prendiamo Ehm Si Possiamo fare così ragazzi Guardate Voilà Così No così Questa qua E facciamo due oli Pampete Nel frammento Tempo Ok Allora Pirla Pirla Me ne serve un altro di oro Pirla Vabbè 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 Ok 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 Mentre cuoce qui Allora Ragazzi Intanto vi consiglio Di andare a vedere Di andare a vedere il Dobbiamo fare un'altra ender pearl Porca loggia Di andare a vedere il mio canale Luke4316show Dove sto caricando alcuni sketch Alcuni vlog Proprio ieri ho caricato un car log Che tanto mi avete richiesto Allora Per fare quelli piccolini Mi servono delle ender pearl Ok Allora Ender pearl si fanno così Se non erro sbaglio Me ne servono 8 Me ne viene solo una Pirla Pirla Consumiamo tutto il ferro Ma che me ne fotte Sì Va bene Così Ok Me ne vengono 5 6 7 Come 7 Come 7 No Non ho più ferro Guardate Guardate che faccio mi Guardate che faccio mi Allora Iniziamo a cuocere questi Se non erro sbaglio Con un oro Noi dovremmo fare 8 pezzi di ferro In teoria Due cacchi è il coso E infatti E infatti It's the maig Poi facciamo così E facciamo un altro Ender pearl Guarda Facciamo così Facciamo così E ne vengono 10 Allora cosa vuol dire ragazzi Questi qua piccoli Per chi non li conosce Vi faccio vedere Allora Con questo qua grande Possiamo scegliere noi Quanti chunk Uploadare Loaddare Loaddare Vabbè non so come cavolo si dice Ragazzi E Ora lo spacco Dopo lo rimettiamo Mentre con questi piccolini Non possiamo scegliere noi Ma ognuno di questi Carica un chunk Per cui è come se noi Avessimo 10 chunk Il massimo di quello grande È 10 chunk appunto Però Intorno al chunk loader Mentre questi piccolini Caricano un chunk singolo Ma possiamo metterli Dove vogliamo Non so se mi sono stato spiegato Se mi sono stato spiegato Allora Prima di tutto Uno lo andiamo a mettere Nel nether Di questi piccolini Perché un chunk nel nether Ci basta Ci avanza È inutile mettere Quello lì grosso Giusto? Per quello ne ho fatti 10 Faccio un esempio Se io lì in fondo Voglio fare Un albero Ci metto uno di questi qua Piccolini Avete capisciuto ragazzi? Scusate la voce È un po' da trance Ma ho un po' di mal di gola Perché ieri C'era la festa E ho gridato un po' Allora Scendiamo subito su O giù È uguale Kaiferriot Join the game Questa casetta è un po' Ok Allora Lo piazzichiamo qua Pampete Permesso Giovine Andiamo a casa Ok Casa dolce Casola Abbiamo messo il coso Nel nether Ora qui Dovrebbe riempirsi In teoria Teorando Dovrebbe funzionare Beh ricordatevi com'è ragazzi Poi vediamo se Sta funzionando Intanto Io andrei sul tetto Vediamo come andarci Magari da qui E mettere il nostro chunk Loader Allora Saliamo giù Dai 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 Per il momento Io lo piazzicherei qui Per il momento Allora abbassiamo i chunk Ah sono già due Vediamo un po' Se con due chunk Ci arriviamo a fare tutto il contorno No di là non va Per un pelino Guardate te Guardate te Per un pelino Per cui con tre chunk Saremmo a posto Vediamo un po' Che poi sono 25 chunk Oh giusto giusto Arriva fino lì Ma non prende gli alberi Facciamone 5 Vaffanculo Vaffanculo Tutto il nostro contorno Ok va fino lì in fondo Va fino lì in fondo Tutta la bella montagnetta E va 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 Fino lì In fondo Perfetto Allora a sto punto Facciamo 6 Vaffanculo Basta Basta Ok scendiamo E siamo a cavallo Abbiamo tutto il nostro Posto Lo ha dato Voila Andiamo a vedere Se arriva la lava Non arriva la lava Ottimo It's the ottimo Ora andiamo a vedere Che è successo eh Allora Vorrei fare Rendi renna Join the game Vorrei fare Abbiamo questi qua Quanti me ne vengono Ben 4 Per cui facciamo così va Rosso bianco bianco E andiamo nel nether A fare rosso bianco bianco Eh Sì Hello Abbiamo nel nether Ok Allora abbiamo detto Rosso bianco bianco Ok è passata tutta la lava No È sparita la lava Perché non sta funzionando adesso? Eh amico Che l'è succede Ma Che è successo? Azzo Non c'è tanta lava Qui Che cagata Che cazzo è stato? Oh Ragazzi Qua non c'è tanta lava Che cacata Devo spostare tutto il macchinario Dai ma che cacata Ecco qua l'aggo Ok Dove lo metto? Cioè sembrava un mare di lava E vai c'è un blocco Invece è solamente un blocco Scusate Ma se io faccio così Dite che la raccoglie No che non la raccoglie O forse sì Forse sì No Ma dai però Ah sì che la raccoglie Guardate No 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 Ok ragazzi Ho perso tutto Nella lava Ora io però Forse ho lasciato qualcosa qui Ah meno male Almeno le cose più importanti Bene Niente Mi devo rifare tutto Porca loggia Non ho legna Non ho niente Non ho niente Allora abbiamo questo qua Volendo abbiamo questa legna Yeah Facciamo un po' di bastoncini Facciamo questi qua Allora facciamo un piccone Un'ascia Una pala E una spada Voilà Ok Dovremmo riuscire a fare tutto ciò Rifacciamo tutto Allora Una spada Poi Una pala Pala Spada Un piccone Voilà E un'ascia Voilà Abbiamo tutti gli attrezzi Perfect Legna Prendiamo un po' di cobblestone E voilà E abbiamo tutto Perfetto Ragazzi la lava è piena Guardate Sta funzionando almeno per il momento Per cui facciamo 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 Dei geothermal Dei geothermal Ma dovrò cuocere del ferro Orca loggia Eh Cuociamo tutti questi qua Me ne vengono 44 esattamente Yeah Però mi manca il carbone Porca loggia Carbon 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 Questi qui Rumor di scheletri Dai Ok Allora Vediamo se riusciamo a fare già subito subito un geothermal Come si fa il geothermal Andiamo a vedere Geothermal Eccitelo chi Allora Questi qua L'empty cell L'abbiamo già fatta Un generatore Dobbiamo fare un iron furnace Una batteria E tre di quelli It's the perfect Allora Iron furnace Facciamo una fornace Voilà La facciamo diventare di ferro Il ferro l'ho perso tutto nella lava Porca loggia Sicuro che non era qui No Ottimo Allora abbiamo la fornace Dobbiamo farlo diventare di ferro E poi Me ne serve un'altra Me ne serve un altro Dai porca loggia Dovevo tendere la notte E andare in giro Mentre qua c'è il ferro Scheletro Scheletro Manca uno scheletro Certo Dai Bye Bye